Questa mattina, 1 ottobre, riaprono gli istituti scolastici in molti comuni della provincia di Napoli. Dopo i vari rinvii da parte dei sindaci e l'attesa durata sette mesi a causa del lockdown, oggi finalmente si torna ai tre banchi di scuola. Non è mancato il messaggio del sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che scrive «Sarà un anno certamente complesso e singolare per le note vicende legate alla diffusione del Covid-19, ma anche un nuovo anno ricco di sfide e di traguardi da raggiungere ed ottenere, con sacrificio e attraverso il percorso educativo dello studio. Il mio personale augurio ai dirigenti scolastici, al corpo docenti e a tutti i giovani, perché vivano con la serenità e con l'entusiasmo che li caratterizza, ciascuno per il suo ruolo, questa nuova vincente esperienza». Un augurio anche dal primo cittadino di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione. Il sindaco ha chiesto responsabilità da parte di tutto il personale scolastico. È inutile nascondervi che c'è una certa preoccupazione, soprattutto in virtù dell'improvvisa impennata di contagi, che da diversi giorni si sta registrando in campania. Le difficoltà sicuramente non mancheranno, prosegue. Ma per ora bisognerà convivere con questo subdolo virus, abituandoci a nuovi stili di vita, almeno fino a quando non ci sarà un vaccino. Ed è proprio per questo che occorre che ci sia da parte di tutti massima collaborazione, responsabilità e rispetto nelle misure vigenti. Anche a Castellammare il sindaco Gaetano Cimmino ha dedicato agli studenti una lunga lettera di speranza. Godete, con un sorriso che celato dalla mascherina si riveli però nei vostri giovani occhi, dei compagni, del personale scolastico, delle lezioni, dei docenti, dei rimproveri e delle lodi, di tutto ciò che rende magnifica la nostra scuola ed il contatto umano, indipendentemente dal metro di distanza.